Buongiorno Se mi permette, a nome della delegazione qui presente, mi permetto io direttore generale, le rinnovo il benvenuto e l'alto significato di gratitudine per la loro presenza qui in questo commento oggi. Il convinto nazionale è una delle 45 strutture particolari in Italia. Che possa realizzare una simile situazione, essendo noi Aula Confuccio e quindi essendo una storia di alta qualità. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.